Le catture ci sono state, però... Tipo? Quante? Tra me e te... una trentina, dai! Ah, Antonio, ti sta prendendo... Quasi... No, no, lascia, lascia! Eh no! Andava giù! Sicuro? Si, si! Finchio, l'ho preso! Abbamediata! No, no! Elands threat! force, ver- es Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. È sempre meglio rifarlo. Per una questione di tensione, di durata? Certo, perché poi finisce che magari si perde una trota semplicemente per la pigrizia di non rifare una piccola montatura. E la pigrizia è una bella... Aspetta che mi sistemo. Però adesso, quando io sono inquadrato... È dritto? Faccio una grandissima faccita. Perché ti emozioni? No, perché... Perché potevi passare fra cingoli. Un'oretta, eh? Manca un'oretta. Sì. È montato un galleggiante. Sì. È una pesca, diciamo, in superficie. E poi un'altra invece con... Che questa qua, quella che ho preso io prima? Sì. Sì? È montata con la pastella e una camola del miele agganciata leggermente solo dalla testa. Dopo ci fai vedere come la fai? Sì. Sì. Ah? Dai. Almeno la gente vede anche come la monti. Il segreto della tua bravura. Perché è la canna che in realtà ha preso più pesce oggi. Questa? Sì. Questa qua è una Tugatini della serie Easy Truth. È un 4,10 metri e ha un'azione di pesca 5-15 grammi. Vuol dire che si può montare, diciamo, vetrini o comunque... anche, diciamo, spallinate, comunque dai 5 e piccole bombarde fino ai 15 grammi. Comunque, stavo dicendo, secondo me non bisogna montare più di 10 grammi per non avere, diciamo, la canna troppo pesante poi in mano. Quindi bisogna stare sempre nel range tra i 5 e i 15. Bene. 12, massimo 12 grammi. Bene. Spiegazione... ...bombardina. Spiegazione comunque utile. Comprimenti. Tecnica, dice. Sì, ma la tecnica ci vuole anche la pratica. Questa è la pastella che hai usato, giusto? Sì. La pastella della Berkeley. Che hanno pagato? Rossa con brillantini, classica pastella. Che rimane galleggiante in acqua. Avete capito? Rimane galleggiante. E brillante. Permette poi alla camolina che... Queste sono quelle che usano le zoccole? Sì, infatti tornerò a casa e mia moglie si incazzerà perché mi vedrà piena di brillantini. Ma no. Che sarà con chi cazzo sono andati? Beh, glielo stiamo dimostrando. Sono... E la pastella. E la pastella, sì. Come quelle che vanno a calciare la sera. Bravo. Come fatta leggermente in anticipo, si può... ...ebbiamente cercare di... ...di tagliare l'amo. Come potete vedere anche senza l'eslamatore, che non è una pratica. Le ci tiene... Le ci tiene all'integrità del pesce, giusto? Beh, non verrai qualche scala di così e sostenersi. Grazie a tutti.